Io ti dico solo quello che a me ha colpito, guarda da subito, siamo cresciuti, noi uomini intende, pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori della terra, autorizzati a saccheggiarla, noi la saccheggiamo? Ma saccheggiamola? No no no, ma noi prendiamo un po' di rucola, la bresaola, quella roba là, prendi la pasta sotto e fuggi per il risolto. Ma tu da dove vieni, ma chi sei, ma da dove, come cazzo si è capitato qua? Bravo, me lo sto chiedendo da un'ora, non so, non lo so, non fai l'altro, tutte le robe sono tue e strucco viene fuori roba tua, dai. Ma dove? Noi la saccheggiamo la terra, noi la deprediamo territorio, materie prime, energia, perché noi dobbiamo buttare le cose che non ci servono, vero? Noi abbiamo bisogno di spazio, sempre più spazio, noi abbiamo bisogno di oggetti, noi abbiamo bisogno di sempre più benessere, vero? La caccia, la corsa al benessere. Ma dai, il benessere è benessere, allora, come lo facciamo? Torniamo a vivere nelle caverne come i primitivi? Sì, dai, la comodità, la comodità è comoda, è comoda, se no si chiamava scomodità, invece è comodità, è comodo. Allora, vogliamo abbandonare le comodità, dai, allora, uno sale in macchina, è la macchina che ti porta in giro, o torniamo come i flingston, dai che andiamo, monta in macchina, montavano in macchina, prendevano la macchina, erano loro a portare in giro la macchina, dai, questo è.